E' sempre un piacere ritrovarsi tutte le mattine insieme, ormai lo facciamo da quasi 12 anni, sul canale 17 c'è la rassegna stampa di Fano TV, Occhio ai giornali, tra poco vedremo quali sono le notizie più importanti del giorno. Partiamo però con il santo di oggi, il santo è San Giacomo della Marca, ma vi segnalo anche Nostra Signora del Dolore di Chibeco in Ruanda, è una di quelle apparizioni che sono state riconosciute anche dalla Chiesa e quindi chi vuole approfondire può andare su internet e leggere la storia di queste apparizioni. Il sole è sorto alle 7.18 e tramonterà alle 16.34, il tempo, allora oggi avremo una giornata serena o poco nuvolosa, non ci sarà granché a parte le gelate mattutine ancora in corso, temperature in aumento poi nei valori massimi quindi nel corso della giornata, ma domani comincia il peggioramento, vedete mercoledì 29 avremo una giornata inizialmente poco nuvolosa, poi man mano nel corso della giornata aumenteranno le nuvole e avremo deboli diffuse localmente, precipitazioni anche caratteri di rovescio, il limite delle nevicate è attorno ai 1500 metri, poi giovedì ecco il peggioramento a fine mese 30 novembre con rovescio temporali sparsi, a partire da nord in transito verso il resto della regione, i fenomeni saranno in esaurimento dal primo pomeriggio e vedete il limite da 1500 si passa a 1200 metri per effetto della diminuzione delle temperature, i venti sono nord occidentali di Brezza Tese, la persistente struttura ciclonica sul bacino del Mediterraneo manterrà condizioni di tempo instabile anche nei prossimi giorni. Andiamo a vedere subito i giornali, cominciamo con il furto della banda del buco alla Sisal di Pesero, fuga dei ladri con 80 mila euro a Win City, ancora nel mirino dopo la rapina del mese scorso, razzia di biciclette invece a Vallefoglia. A centro pagina invece la fotografia scattata dall'alto di Piazza del Popolo a Pesero con questa pista di pattinaggio a forma di cuore, a dicembre candele e candelare, poi il pattinaggio all'Adriatic, si parla anche di presenze turistiche all'interno del giornale di questa mattina del Corriere Adriatico, il turismo ha fatto 13, in aumento anche gli arrivi, il sindaco Ricci dice forte crescita, siamo sulla strada giusta. Poi, sempre in prima pagina, la battaglia dei tavolini a Fano infiamma l'opposizione politica, bocciato il regolamento sull'arredo urbano, scelte penalizzanti e contro la democrazia. Dunque tornano, pur con posizioni diverse, le forze politiche sul tema regolamentato dell'arredo urbano. Quindi tavoli, eccetera, eccetera. Tavoli, sedie, i colori, soprattutto la forma, insomma, soprattutto si cerca, tanto per farci capire, si usa una parola deors che fa schifo, però per far capire, anzi per non far capire questa differenza, perché se parlassimo in italiano, già facciamo fatica a parlare italiano con questi termini stranieri, ma comunque deors, poi lo vedremo anche tra poco, insomma, si parla dell'arredo urbano. Perché? Perché in una piazza importante come quella di Fano, ma per tutte le piazze questo vale, perché è il cuore di un paese, il cuore della città, andrebbe regolamentato il discorso dei tavolini, delle sedie. Perché? Perché c'è qualche commerciante che per risparmiare due soldi, giustamente, probabilmente anche, che però utilizza quelli marchiati, cioè i tavolini della Coca-Cola, della Fanta, di quello, di quell'altro, che sono brutti da vedere, soprattutto in città importanti. Ora, è giusto che la sovrintendenza, che regola l'aspetto e l'estetica di una piazza e quant'altro, ponga dei limiti, metta un regolamento. Ecco, di questo si discute. L'opposizione vorrebbe una cosa, a Fano invece la maggioranza no. Allora, si parla di questo, è stato approvato un regolamento nella seduta del Consiglio Comunale del 14 novembre scorso. Forza Italia chiede un nuovo incontro. I 5 Stelle, invece, il confronto con la sovrintendenza e il resto dell'opposizione, invece, vuole la bocciatura. Ecco, di questo si parla. Ma sempre sul Corriere Adriatico, guardate le fotografie di questa sala scommesse. Siamo in Via Ponchielli, in una sala che si chiama Win City, che è finita nuovamente nel mirino della banda. Come sempre, è successo tantissime altre volte. Fanno dei buchi, magari nei locali attigui, per entrare nel locale che invece interessa, in questo caso la Sisal, entrano dentro e fanno razzie di tutto. Banda del buco, colpo grosso, razziati 80 mila euro dalla sala della Sisal. Dopo la rapina, il furto, la sala scommessa, Win City, insomma, si rubano a vicene. Nel senso, uno, vabbè, lasciamo stare. Oggi sono abbastanza polemico, ma non è il caso. Allora, il mio negozio è un bunker, però i ladri non si fermano. A Vallefoglia sono sparite biciclette per 60 mila euro da un negozio che si chiama Cicli Olivieri. È successo ieri notte, intorno alle 3 e un quarto, ed è scattato l'allarme sul telefono dei proprietari, ma anche su quello della vigilanza privata. È arrivata lì, però vedete, questo è il risultato, una vetrata completamente sfondata e hanno portato via 60 mila euro di biciclette, ma se va male per i commercianti va peggio per le abitazioni private. Un fine settimana senza pace. Razzie negli appartamenti, una decina di furti denunciati, ma scattano anche gli arresti. Dunque è un'escalation di furti in appartamento. Ecco, questa è la parola, cioè questa è la frase, un'escalation di furti in appartamento. Allora, domandina, che mese siamo? Dicembre. Sentiamo a vedere gli anni scorsi, stessa cosa, dicembre, dicembre, c'è l'escalation. Perché? Perché, anzi, novembre. Perché? Perché a dicembre ci sono le feste, anche i ladri devono poter fare in famiglia, perché i ladri hanno una famiglia da mantenere, non hanno lavoro, quindi rubano, però devono mantenere mogli, devono mantenere figli, devono andare e vanno a rubare. E a dicembre ci sono i regali da fare e quindi di conseguenza, perché non è che i ladri arrivano da Marte, i ladri arrivano e sono persone come noi, che però purtroppo fanno questo di mestiere. E allora cosa succede? Che c'è un'escalation perché questo è il mese in cui solitamente tutti gli anni c'è questa escalation, perché appunto poi dopo vanno in riposo, anche loro, anche i ladri si riposano. Vedrete che a gennaio i furti diventeranno lo 0,0 e qualche cosa, poco o niente. Questa è però la situazione. Andiamo sulla pagina di Fano. Allora, eccola qua, i Deors, questi famosi tavolini e questa famosa, eccoli qua, vedete, tavolini e ombrelloni in piazza 20 settembre, vedete, tanto per fare un esempio, senza andare, io non so nemmeno di chi siano, allora questi sono verdi, gli altri sono bianchi, quelli sono rose, insomma si fa una piazza Arlecchino e giustamente la sovrintendenza interviene sperando sempre che chi sovrintende sia col cervello attaccato, a volte non sempre, però diciamo che ci si fida. Scoppia la battaglia dai Deors vietate, attacco alla libertà dei commercianti, l'opposizione contro il regolamento comunale, ridicolo imporre materiali, colori e forme. Come dire, io se la voglio di plastica, la voglio fare, la posso e la, devo avere la possibilità di farla di plastica e non di ferro o di qualche altro materiale. Invece c'è chi, come dire, impone anche il materiale, oltre al colore e alla forma. Urbino invece, il nuovo anno accademico, segna la svolta internazionale, domani Lectio Magistralis del professor Viroli Stocchi. Oggi avvieremo un piano di sviluppo, dunque un'intera giornata dedicata a Urbino a celebrare i 511 anni dell'Università di Urbino, fondata nel 1506. La sua ultra cinquecentenaria storia la rende una delle università più antiche d'Europa. Crollo al cimitero, siamo a Pesaro sul Corriere Adriatico, la colpa è della colla. L'assessore assicura, l'assessore Enzo Belloni, chiederemo il risarcimento dei danni subiti alla ditta Tecno Alpalti, la questione sollevata in Consiglio dei Cinque Stelle, l'importante è che non paghino però i cittadini. Lo scorso 26 ottobre si staccò il pannello di rivestimento del padiglione dei fiori e dunque il Comune, questa è la notizia, chiederà il risarcimento dei danni per quello che è successo appunto nei giorni scorsi. Poi l'addio all'arbitro di Pallacanestro, l'arbitro internazionale di Pallacanestro. Migliaia di persone saluteranno Gianluca Mattioli, la cerimonia funebre si terrà oggi alle 14.30 in Duomo dove sono attese migliaia di persone. Sabato sarebbe stato il cinquantesimo compleanno di Gianluca, così lo chiamavano, scomparso il 16 novembre scorso a Murcia in Spagna a causa di un virus e in rete molti amici lo hanno ricordato in maniera affettuosa e commossa. Andiamo a Cagli invece dove si parla del problema dell'ospedale, vecchio ospedale, ospedale Angelo Cieli di Cagli. Nessuna privatizzazione rassicurano, budget invariato, più letti e servizi. Il consigliere regionale del PD Traversini contesta su tutta la linea il collega dei 5 Stelle, il collega regionale Fabri. Da Senigallia invece ecco un'altra notizia che fa accapponare un po' la pelle, ma insomma sono cose che a volte succedono. Bimbi terrorizzati dalla maestra, la denuncia dei genitori finisce sui social network, quindi su internet, gli sfoghi, pacche sulla schiena con la riga, a Montignano verifiche della dirigente scolastica. Dunque ma è più serio segnalare i fatti agli organi competenti dice Maurizio Mangialardi e che effettivamente non fa una piega questa mania perversa di denunciare cose anche come queste che fanno davvero accapponare la pelle sui social network. Allora qui bisogna capire davvero, vabbè lasciamo stare, comunque ha ragione il sindaco di Senigallia, ha ragione Mangialardi quando dice è più serio segnalare questi fatti alla polizia piuttosto che sui social network, anche perché denunciarlo sui social network non serve assolutamente a nulla. Se avessero dovuto fare delle indagini, piazzare delle telecamere, guardare effettivamente se questa cosa è vera o no, detta ormai sui social network non ha più efficacia, non si può più fare, quindi come andremo a vedere, come potranno andare a verificare se questa cosa è vera o no, quindi una bacchettata alle mani alla mamma probabilmente di chi ha scritto questa cosa sui social e così la prossima volta sta buona e parla con le persone e con gli organi competenti giusti. Comunque siamo nell'era dei social dove tutto va condiviso. E siamo adesso invece sul Carlino, il Carlino eccolo qua, razzie ed arresti alla Sisal, la banda del buco fugge con 80 mila euro, maxifurto di bici a Montecchio, la squadra mobile blocca quattro banditi subito dopo la rapina fatta alla GameNet di Fano. Poi l'accoltellatore, andiamo a vedere la pagina interna di Fano del resto del Carlino, ecco qua, questa è la scena del delitto, nel senso che è la scena dove i due si sono azzuffati e uno, un italiano, ha ferito con il coltello anche in maniera seria, un marocchino di 23 anni. Italiano che non è pentito e dunque il giudice lo ha lasciato in carcere, si trova ancora a Pesaro nel carcere di Villa Fastigi. L'accoltellamento al Pincio di Fano, l'interrogatorio dell'indagato, il GIP convalida l'arresto di Marco Cirioni, che è l'aggressore. E dunque l'aggressore, questo 21enne, anzi residente a Fano, arrestato a giovedì scorso dai carabinieri per aver accoltellato e ferito al polmone destro un marocchino di 26 anni dopo una zuffa scoppiata in pieno centro pomeriggio intorno alle 5 al Pincio. Ebbene, per il GIP Fabrizio Messina deve rimanere in carcere. E lui dice, non ricordavo di avere il coltello nel giubbotto, l'ho usato per difesa perché lui aveva preso una bottiglia. La Miccia, il 21enne, avrebbe chiesto all'altro di alzarsi da una panchina. Al rifiuto sarebbe scoppiata la rissa. Celebrazioni per la Virgo Fidelis. Virgo Fidelis è la patrona dell'arma dei carabinieri, si sono svolte sabato al Duomo di Fano con il Vescovo Tresarti. Le celebrazioni della patrona dei carabinieri hanno presenziato il comandante della compagnia di Fano, il capitano Alfonso Falcucci, insieme ai militari delle varie stazioni, carabinieri in congedo e rappresentanti delle altre forze dell'ordine. Andiamo adesso sulla cronaca, la cronaca da San Costanzo, un uomo è caduto da un albero ed è stato soccorso dall'eliambulanza, si tratta dell'imprenditore Massimo Talamelli. L'incidente è avvenuto ieri mattina nel giardino di casa, adesso è grave, stava potando una pianta in giardino e all'improvviso è caduto al suolo in modo rovinoso, forse perché si è sbilanciato o probabilmente per lo scivolamento dei piedi dalla scala che era appoggiata sul terreno che però con l'umidità della pioggia e dei giorni precedenti non ha tenuto, quindi è caduto. Ieri mattina verso le 11 a San Costanzo, Massimo Talamelli, 74 anni, imprenditore edile in pensione, residente appunto a San Costanzo. Andiamo adesso sulla pagina di Urbino, anche qui la notizia del trend positivo dell'università, numeri buoni, più che buoni, crescono matricole e iscritti, nuovi aumentano dell'8,8%, il totale addirittura del 15,9%, 1.696 studenti in più, dunque il rettore Stocchi snocciola i dati, sorprendentemente in ascesa per l'università di Urbino. Le facoltà preferite vanno forte, biologia, scienze motorie ma anche scienze dell'educazione, mentre in netto calo giurisprudenza. E quindi questa è un po' la situazione. Ora, il caso dell'ospedale a Cagli scoppia la rabbia, anche sul Carlino, la notizia dell'assessore di Cantiano Matteacci che si scaglia contro la ventilata cessione al Santo Stefano e poi sotto la pala eolica che è caduta a causa del vento, Rossi attacca, queste pale eoliche sono inutili e pericolose. Saranno i tecnici o coloro che sono preposti a stabilire le cause della frattura dell'albero della pala eolica accaduta a Monte Vicino, in località Galvano, nel comune di Piobico, che poi sconfina anche nel territorio di Peco, a stabilire che cosa sia successo. Perché, insomma, la pala sembra abbia smesso di funzionare alle 2.45 della notte tra sabato e domenica, il momento in cui si è verificata la frattura del palo e la caduta a terra della parte superiore. Sull'incidente interviene Giacomo Rossi, presidente del Movimento Civico, frazione azione popolare Pesero Urbino. Ok, ci fermiamo qua. Ah no, c'è un'altra notizia, la chiudiamo proprio in bellezza. Stamattina la rassegna con questa notizia che non la commento perché sennò non è il caso. Siete grandi e vaccinati, fate voi. Il titolo è Ibernata, cioè congelata, in attesa di risorgere, la salma spedita a Mosca. Bologna, il corpo predisposto per la crioconservazione, si chiama così tecnicamente, è di una 65enne russa, che chiaramente è morta nei giorni scorsi, che ha deciso di farsi congelare, di farsi ibernare. Il primo caso in Emilia Romagna. Lo trovate sulla pagina del resto del Carlino. Ok, noi ci fermiamo qui, ci vediamo stasera alle 20.30 con il telegiornale Occhio alla Notizia. Se avete cose da dirci, se avete segnalazioni da farci, come sempre, scriveteci un sms oppure con whatsapp, inviateci foto, video e quant'altro al 338 49 68 250. Ieri abbiamo ricaricato il cellulare di 5 euro a un nostro segnalatore che ci ha inviato una bella segnalazione e quindi lo abbiamo premiato. Fatelo anche voi e se la segnalazione sarà importante, sarà in esclusiva, avrete questo piccolo riconoscimento che per noi è un piccolo gesto di affetto nei vostri confronti. Grazie, buona giornata a tutti. Grazie.